E' arrivato in cima al Monte Cervati Vittorio Brumotti che in queste settimane sta girando tutto il territorio del Parco Nazionale Cilento Vallodidiane al Burni per la realizzazione di un lavoro di promozione del territorio del Parco. L'inviato della nota trasmissione di Canale 5, Striscia la Notizia, nel pomeriggio di ieri è stato in visita a Sanza e accompagnato dall'amministrazione comunale, in primis dal sindaco Vittorio Esposito e dai referenti del club alpino italiano Sezione di Sanza, ha raggiunto luoghi suggestivi del Monte Cervati per le immagini promozionali della suggestiva area e con la sua bici si è lanciato in evoluzione in mozzafiato sulle rocce della vetta più alta della Campania. Vittorio Brumotti, dieci volte nel Guinness dei Primati per le sue imprese sportive, in queste settimane sta attraversando tutto il territorio del Parco come testimonial dell'area protetta, che è anche uno dei più grandi parchi nazionali d'Europa, rimanendo peraltro esterefatto dalle innumerevoli bellezze. Così come si è mostrato entusiasta, rimanendo affascinato dello spettacolo della natura che caratterizza Sanza e il Monte Cervati. Un luogo unico, ha dichiarato, di una bellezza sconvolgente. Spero che la mia presenza possa contribuire a farlo conoscere nel mondo. Spero, ha proseguito, di poter un giorno vedere qui giapponesi, cinesi e americani che godono di questo paesaggio straordinario. Molto soddisfatto il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, per questo piacevole incontro. Ci ha fatto preoccupare non poco nel vederlo sugli spuntoni di roccia a picco nel vuoto con le sue giravolte in sella alla bici. Siamo stati per oltre due ore con il fiato sospeso. È incredibile, continua Esposito, la sua determinazione ma anche la sua semplicità. Davvero una gran bella persona. Lo aspettiamo anche in futuro, continua ancora Vittorio Esposito, per fargli conoscere tanto altro del nostro territorio. Mi piace ricordare e ringraziare pubblicamente il presidente del Parco Pellegrino e il direttore Romano Gregorio per questa idea di affidare a Vittorio Brumotti la promozione dell'area protetta.